bene allora iniziamo questa nuova corsa oggi qui sempre su ms2 ora saremo sulla linea 188 una corsa di 15 minuti circa faremo una piccola corsa di 15 minuti adesso partiremo a breve che abbiamo siamo sulla linea vediamo se con il cambio qua vediamo se la cambia sempre con il 189 no? quindi allora linee 0 0 0 perfetto, risettiamo tutto ok, finiamo la porta dietro mettiamo le linee 188 0 0 route 0 1 no, questa è l'Uberhof route 0 2 dovrà uscire a Movie Park Movie Park Germany, perfetto non c'è più nessuno che deve salire quindi accendiamo i motori ok, si scende pure l'aria condizionata senza la temperatura interna dell'auto un settimo dopo il tempo che avevo usato ben sprecato vabbè, perfetto partiamo da Uberhof e dirigiamoci verso la nostra prima non sapremo capoliglia non c'è nessuno che arriva di qua perfetto 188 a sinistra perfetto sono in ritardo di 2 minuti e mezzo ottimo direi partiamo col botto c'è la scorsa volta che eravamo sempre in ritardo poi un sacco in anticipo ora un sacco in ritardo vabbè perfetto 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 oddio non è ancora caricato da exo chi chi ha alcuni auto quindi voglio già frenare perché devo girare a sinistra quindi alle linee a sinistra Abbiamo anche il verde. Ralentiamo perché è la linea a destra. 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 Salve salve. Via. Via. Siamo un po' più veloci perché siamo un po' in ritardo. Via. 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 138 a destra 138 a destra 138 a destra 148 a destra 148 a destra 148 a destra 148 a destra 158 a destra 158 a destra 159 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 a destra Grazie. Via, via, via. Su, 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 su. Gera a sinistra. Movie Park 188. Non c'è nessuno. Via, 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 via. Ce la faccio, ce la faccio. Ah, vai. Mamma mia. Quando sei in ritardo, veramente, c'è uno stress incredibile. Vabbè, quando sei in anticipo il tempo non sale mai. Quando sei in ritardo, invece... Noi nell'allettamento che hai, ti aumenta un sacco. Mamma mia, incredibile. Andiamo a fermarmi qua pure. Via. 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 Via, 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 via. Su, 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 su. Non scendere sotto i tre minuti di ritardo. Sono tre minuti virgola cinque di ritardo. 138 dritta, via. 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 Fermata. Già bel tempo. Su! Ha già ancora in ritardo. Su, 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 su. Non c'è nessuno, quindi perfetto. Fermata. Vier, 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 vier. Non c'è nessuno, perfetto. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, perfetto. Non c'è nessuno, perfetto. Destra. Noi siamo sotto il minuto di ritardo, ottimo, l'ho recuperato. Qui è l'ultimo pezzo, l'ho recuperato. 188. Destra. Movie Park. Eccolo qua. Il parco divertimenti. Perfetto. 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 Devono risalire tutta la temperatura esterna. Così si raffredda un po' il motore. Volevo vedere che sta qua io, appena così, girare qua dentro. Però è vero che non fa nulla. Boh, niente, arriva qua. Sono sbarre qua. Passa la macchina e si abbassano. Figo. Di qua non c'è più nulla. C'è solo il parco divertimentico, no? Con le persone. Perfetto. Si sta, si sta. Bene. Come sa che devo andare indietro? Da 888. Se torna indietro... si riaccende quindi così parte anche l'aria condizionata così non si lamenta la caldo 28 gradi dietro l'autobus che gioia facciamo scendere la prima natura ma che è il meglio io ho capito un po' di corna mi dicono un po' di Allora 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 Buongiorno Allooo Allooo Allo bus farlo Ma abbiamo tanta gente, tanto pieno, l'autobus full abbiamo Look star di edificere Quali sc planejare Va bene ancora due minuti e sei e poi si parte grazie a tutti un minuto e sei poi si parte con calma sperando di non fare troppo ritardo grazie a tutti 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 via grazie a tutti 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 grazie a tutti